Toulouse Ciao a tutti ragazzi, qui Emerald, siamo qui nell'episodio degli Angel Games con Maria di Alessio e di Alyx Why so you dickhead motherfucker? C'è un po' che ha scritto pene? Ma, dammi Stefano tutti i pantaloni Oh 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 oh, amico. Non prenderai la spada prima di me, pezzo di merda che non ce la farei perché ti squarterò la famiglia baby sexy mammy gireranno con me gireranno con me ciao a tutti ragazzi bella oh ma qua c'è una cesta chi lo sapeva il fato ahia affanculo oh maggi affanculo ahahah è complotto è complotto è complotto è stato un assalto da parte dei complottisti io ho a Kenny faccio un arco mio mio affanculo no ti sto dando la roba adesso non ti do più la roba te ne affanculo ma che viene le cose queste che non mi servono ehi ehi giornata ehi ehi ma perché mi ridai i pantaloni Alex tu hai che sei è morta no no sono ancora eh muori intanto muori a breve lo sappiamo sei morta ora no ora no ora no l'hai stato un'ora però ci avevo azzeccato sul fatto che sarebbe eh mi sto andando prendere la testa e me l'ho il minaccio incompreso eh magari devi saltare sul no no mi sono fatto più danno che cosa ritardo mentale ho tre cuori due cuori e mezzo fermo un cuore mi segui mi segui ok allora e basta perchè Alex ti sei perso la scena basta di picchiare Alex c'è un po' di coordinate che andiamo a fare il culetto a sti morighetti ma sono morta e beh appunto per quello potresti darci un po' di fatica e infatti dici le coordinate ho un'idea si può uscire da sta roba qui una volta che si è entrato c'è uno penso sia abbastanza vicino a voi 187 ah è vero che si può uscire oh uno sta andando a spawn dai vai eh me lo descriviti per l'arte nel complotto andiamo ho sbagliato morta x da 120 z da 90 lo vedo lo vedo lo vedo è l'ultimo due giorni di video vieni qui vieni qui amico oh 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 scherzo vaffanculo nel cazzo ma cazzo c'è' c'è anche una terza figura l'osk sbuca dall'angolino disse c'è mattello lo ti fa col piccolo dietro attenti attento guarda ma giù adde tu c'è punto con il piccolo col piccone attento che corre più veloce degli altri perché lui il mantello li poteva svolacciare lui è lo supereroe della città lui era batman bisogna corre seguendo si c'è anche no uno è batman l'altro è robin hanno tutti e due la maschera guarda lì no uno è chuck norris e vai che cazzo ma fa il culo sinceramente vabbè ragazzi questo video è finito ci vediamo nel prossimo ciao a tutti comunque è arrivato uno